Francesco Zanoncelli, allenatore del Carpenedolo, 2-2 contro la Feralpi Salò, una splendida partita. Bella, entusiasmante, credo che è un risultato aperto, nel senso che è stata equilibrata anche in fatto di occasioni, perché anche noi nel secondo tempo potevamo fare o arrotondare comunque il risultato in un paio di circostanze, stessa cosa vale anche per loro, dopo il pareggio ottenuto nel secondo tempo hanno avuto due opportunità abbastanza importanti, o comunque importanti, abbiamo avuto la possibilità di poter andare di nuovo in vantaggio, ci siamo fatti raggiungere proprio lo scadere, ecco questo è un peccato perché erano comunque tre punti molto pesanti contro una buonissima squadra. Un risultato che però ci sta. Ma ci sta, chiaro, sì, è stata una partita comunque equilibrata, poi chiaramente trovandoci comunque in vantaggio 2-1 al 49esimo, alla fine tutti quanti pensavamo di portarci a casa con la posta piena.